Lo sport unisce, anche nel ricordo, di chi non c'è più. E lo sa bene la palestra Start, che in collaborazione con la palestra Vitality, ha organizzato il Memorial Joe Bike Ride, per ricordare Giovanna Viola, amante dello sport e dello spinning, venuta a mancare prematuramente quattro anni fa per un male incurabile. E così sabato a Piazza Mediterraneo, nella frazione riverasca di Marina di Modica, si sono dati appuntamento tutti gli appassionati di ciclismo e di spinning. Obiettivo comune il divertimento in sella e il piacere di fare sport insieme, accompagnati da sei istruttori qualificati e dalla musica. Due ride della durata di 60 minuti, a cui in tanti hanno preso parte. Ed era presente anche la mamma di Giovanna, che ha voluto salutare e ringraziare i tanti amici della figlia. Io ringrazio e faccio tutti i migliori auguri a tutti i partecipanti, per la forza e il coraggio che hanno di fare questo sport. Era uno sport che mia figlia praticava da tantissimi anni, che piaceva tantissimo. Prova se! Sono sicura che stasera è stata qui con noi e ci sta guardando. Io ringrazio pure tutto lo staff della palestra e spero che ogni anno continueremo di nuovo a fare lo spettacolo in memoria di Giovanna. Soddisfatto dell'evento, l'istruttore Giuseppe Fatuzzo. La cosa importante oggi è avere qua, come dicevo prima ai ragazzi, un angelo che ci guarda all'alto, che sta facendo spinning con noi. Io spero di riuscire ogni anno a ripetere questo evento e portare ogni anno questo angelo sulla bicicletta spinning. Questo è il mio obiettivo, l'obiettivo di tutti quelli che oggi abbiamo fatto sacrifici enormi per arrivare a quello che stiamo facendo. Grazie a tutti.